Sembra che stiamo per tornare in partita, e sono di fronte all'anime fredale, ed è stato qui, è stato dato Graves purtroppo, situazione infelice, ma il fight è stato vinto, e con queste eliminazioni, una dietro l'altra, Giorgio Si viene sordito, Swyron trova l'eliminazione, sembra un Ace ma non lo è, c'è il teletransporto in base, quindi nonostante tutto, nonostante tutte le gufate che ho provato a tirare prima, gli anortosi stanno perdendo, Dominant adesso si trova tu per tu con Gubi, un singolo critico, basta da batterlo, i makers rientrano soltanto per fare piazza pulita, Ace e vittoria. Signore e signori, l'abbiamo detto, mai sottovalutare i makers, e dopo un inizio traballante, l'Italia la porta a casa, questo è l'1-1! E un punto sul tabellone adesso c'è per i makers, vi ricordiamo, è un girone andata e ritorno, quindi bisogna giocare 6 game in totale, ma già partire con la seconda giornata e avere un primo punto è un buon inizio, per poi quello che sarà il resto del loro percorso, perché hai bisogno di giornate per stabilizzare la situazione, quello che è stato un inizio difficile, ambo i lati, sia matchco che makers, per i makers adesso è ristabilizzato, i matchco li avremo a fine giornata e quindi anche loro devono riprendere un attimo il controllo della situazione, ma sono fiducioso di loro, concentriamoci per ora dei makers. A questo punto, però, non ho portato solo l'ascia, ho portato anche il corno e quindi dopo questa vittoria, all'oltre Eugenano Gulborg, semplicemente, schcol! Giustamente. Perché questa è una gran, gran vittoria per i makers, è stata una vittoria emozionante, è una vittoria dove hanno giocato bene ogni fase di partita, e non è che gli avversari non abbiano provato a difendersi. No, assolutamente, anzi, sono riusciti a reggere molto bene il ritmo e anzi, avevano tante belle risposte nei momenti chiave. Greg ha spesso fosse genuinamente convinto di entrare in game con l'idea di giocare a P, e infatti molti degli ingaggi e dei combattimenti che portava avanti erano tipo, ok, io adesso entro e barzo una persona, poi si ritrovava e dice, aspetta, perché Jinx ha ancora mezza vita? E provava a fuggire, non è detto per cattiveria, ma è detto proprio per il mindset con cui giochi fight, è come quando si parla di Lilia da Groomstone contro Lilia da Liondry, la gente non si abitua automaticamente a uno stile di gioco, guarda Gubi! Sì, diciamo che Jinx quando prende vantaggio fa danno. Almeno ho avuto la conferma che Jinx sia letteralmente una Felios 2.0 al momento, se per Felios gli anni di bilanciamento sono 200, per Jinx sembrano voler essere almeno 350, con comunque una Syndra che ha praticamente raddoppiato Orianna in posizioni sulla mappa e in danno poi sul tabellone, e vedere Udyr che fa lo stesso danno da tank di un Graves, da crit, letalità e tutto quello che vuoi, ci fa anche capire perché gli auto-attacker, la giungla non sia casa loro al momento. No, troppe front line da affrontare, troppo difficile riuscire ad essere propositivo in early game, hai così tante scelte difficili da fare come auto-attacker in giungla, che ti ritrovi a dire perché dovrei giocare auto-attacker se posso prendere un tank e fare comunque un buon danno, perché uno guarda quei 6.600 danni di Udyr e dice perché ha fatto tutto questo danno ericolo? Quello è il danno normale di un Udyr, sono tutti gli altri che sono troppo deboli a confronto, è quello il problema, nel momento in cui uno vuole giocare un carry che dovrebbe tirar fuori una tonnellata, uno sfracello di danno, non riesce ad applicarli o non riesce ad arrivare a uno spike abbastanza in fretta, il problema non sta solo su Udyr, il problema sta anche nella debolezza generale degli altri pick in giungla. Affermativo, concordo da ogni punto di vista, perché comunque Udyr non è neanche quello dei tre da chemtank, la sacra trinità Udyr, Volibere, Karim, che è arrivato a splendere più di tutti in una prima fase, si è evoluto in una seconda fase, con una sinergia top to mid per funzionare così bene. Ottima karma, karma vince ragazzi, anche questo è un dato importante da mettere sul tabellone. Bravi makers, che bello entrare oggi in trasmissione e commentare una loro vittoria. Sì, ma ora signore e signori noi ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo fra poco per il secondo game tra Big e Kick. Bye.